Andrea, buona amichevole, inutile le gambe, come sta andando il percorso poi al via della stagione ufficiale? È un ritiro tosto, sicuramente stiamo lavorando tanto, stiamo preparando nuove cose, un calcio diverso rispetto a quello del mister Paladino, stiamo entrando nei meccanismi del mister, sicuramente c'è poco tempo e adesso dobbiamo farci trovare i conti per la Coppa di settimana a Brusso. Andrea, amichevole è importante perché comunque è un avversario, insomma anche fino a qualche mese fa avete ispirato in Serie A, quindi è un test provante. No, questo è un avversario di livello, penso sia vista una bella partita, una partita di squadre quasi in Serie A, che trame facevano un bel calcio, penso che per noi sia un test veramente importante per capire a che punto siamo, quindi faccio un bocca al lupo in calza al suolo con l'ultima squadra. Carboni, a che punto siete per l'appunto e soprattutto cos'è cambiato in maniera particolare da Nesta a Paladino e che sensazioni hai avuto dal tuo nuovo allenatore? È un calcio indubbiamente diverso, è un calcio non a uomo a tutto campo, è un calcio comunque propositivo come quando il palladino, però ognuno è sui meccanismi, noi stiamo cercando di entrare il prima possibile, ci dobbiamo abituare, però secondo me stiamo facendo bene. Che obiettivi ti poni personalmente per l'anno prossimo? Personalmente spero di fare un salto in avanti, ho fatto una buona stagione però ho avuto qualche problema fisico, adesso spero di fare un'intera stagione e dimostrare che sono a livello alto. Resti a Monza, escludi qualsiasi possibilità di andare via o il tuo futuro è ancora più alto? Io escludo ogni possibilità, sto bene qua, sono felice, quindi spero di ripagare la fiducia per questa nostra società. Grazie. Grazie.